Questa è la storia di come la vita di uno scrittore sia stata trasformata radicalmente dall'impulso alla generosità radicale e di come l'urgenza della guerra sia diventata Instant Karma. Lo scrittore è davanti a voi, la persona che vi sta parlando in questo momento. Ora però prima di arrivare al punto in cui voglio portarvi, vi prego di pensare a David Bowie. C'è una canzone di David Bowie che si chiama Time, al minuto 2.11 di Time, David Bowie si ferma un attimo, la musica si ferma un attimo e ci sono circa tre secondi della voce di Bowie che respira e fa… poi riprende la musica. È una delle più belle ballate pianistiche mai scritte essendo di David Bowie. 50 anni dopo, in una canzone che si chiama «Tis a pity, she was a whore». David Bowie, già malato, introduce una delle sue ultime canzoni che registrerà nella sua vita con un altro respiro, il respiro di un uomo più anziano prossimo alla morte. Ed è un respiro diverso che più o meno fa così. Il respiro, come sapete, è una parte fondamentale della filosofia buddista. Attraverso il respiro si può arrivare a quello che i buddisti chiamano liberazione in vita. Attraverso un modo importante di respirare e consapevole di respirare si può arrivare a liberare la propria anima in vita. René Dommal, uno dei grandi scrittori del XX secolo e uno dei grandi maestri del pensiero esoterico del XX secolo, ha scritto poco prima di morire questa breve mandala che dice «Sono morto perché non ho desiderio, non ho desiderio perché credo di possedere, credo di possedere perché non cerco di dare». Cercando di dare si vede che non si è niente. Vedendo che non si ha niente, vedendo che non si ha niente si cerca di dare se stessi. Cercando di dare se stessi si vede che non si è niente. Vedendo che non si è niente si cerca di divenire. Desiderando divenire, si vive. Ora, negli ultimi 89 giorni io ho capito la differenza tra vivere e divenire. Negli ultimi 89 giorni, rispetto al momento in cui vi parlo, probabilmente quando qualcuno vedrà questo video saranno altri 89 giorni e altri 89 giorni. Parlo delle primi tre mesi della guerra di invasione russa in Ucraina. I miei figli sono per metà ucraini e quindi ho una ragione personale per sentire che l'Ucraina è il mio secondo paese. Ma al di là della ragione personale, credo che ci siano stati tanti umani in Europa, in America, nel mondo e soprattutto in Ucraina, che abbiano sentito che questi mesi, queste settimane, siano state un atto di trasformazione radicale. Credo che la brutalità immorale di questa guerra si possa vedere negli effetti altamente morali che essa ha avuto nelle vite di molte persone. Devo dirvi che fino a questi mesi io non avevo mai coltivato un ideale che andasse molto al di là di quello che era un ideale di cercare di fare bene il proprio lavoro, di occuparsi dei propri figli, di cercare di non incutere terrori inutilmente nelle persone, quelle cose normali, insomma, che si cerca di fare, che non sempre si riescono a fare. Non sto parlando di grandi ideali, appunto. Questi ultimi mesi io ho cercato di dedicarli principalmente a aiutare le persone che arrivavano dall'Ucraina, abbiamo cercato di aiutare le persone che stavano lì, abbiamo cercato di aiutare anche alcuni dissidenti che scappano dalla Russia. Queste persone, c'è un solo modo per averci a che fare veramente, provando ad avere il proprio cuore bagnato dalle lacrime di queste persone. Non è facile perché sono persone spaventate, offese, ferite, deboli. Non è facile avere a che fare con persone deboli, spaventate, ferite. Non sono di solito il medio dell'umanità. Credo che avere a che fare con persone deboli, spaventate e ferite, però, sia un modo di far crescere un albero dentro la propria pelle. Coltivare un ideale, si dice. Avere a che fare con persone deboli, spaventate e ferite, ti porta a pensare che il vero tesoro dell'esperienza umana non sia, come avevo sempre pensato occupandomi di cultura, di arte, e letteratura, il momento in cui la curva di un genio, del genio, produce opere immortali. Gli ultimi quartetti di Beethoven, i due anni in cui i Beatles sono passati a essere da un gruppo pop a un gruppo d'avanguardia che resterà per sempre nella storia della musica, i quattro romanzi di Philip Roth dopo Pastorale Americana e prima. Ecco, ho capito che queste cose sono molto importanti, sono il motivo per cui scriviamo, per cui andiamo a vedere un museo, per cui amiamo la musica, forse è il motivo per cui viviamo, forse sono la cosa più bella che l'essere umano possa produrre, però c'è una cosa ancora più importante, ed è la curva di accelerazione del cambiamento che si produce quando una persona spaventata, debole, ferita, in qualche modo guarisce. E questo tipo di operazione, di guarigione, che è difficilissima, perché queste persone possono essere molto difficili, persone che sono state sotto i bombardamenti di Adopsa, persone che sono state sotto i bombardamenti di Kharkiv, persone che sono sopravvissute a situazioni tali per cui potrebbero essere anche delle persone non tanto carine, in assoluto. Ecco, c'è però un modo, che è una forma che alcuni chiamano quella della generosità radicale. Generosità radicale significa dare di più di quello che si ha, come diceva René Romal, capisci che tu non sei niente e cerchi di dare tutto, e cerchi di dare tutto te stesso, e soltanto così entri in quella strana risonanza che permette al cuore di far bagnare, di essere bagnato con le lacrime di un'altra persona. Ecco, io avevo passato tutta la vita a dire, parole, scrivere, anche il dire che proviene dall'ascoltare per esempio un'opera d'arte, da commentarla. E oggi ho capito che la vera differenza non è tra il dire e il fare, ma è tra il dire e il dare. Ho capito che queste persone mi hanno messo davanti non solo un esempio di coraggio straordinario, persone che all'improvviso hanno lasciato tutto nella propria vita a 25, 26, a 40 anni, a 50 anni, persone che in alcuni casi hanno salvato qualcun altro che non conoscevano nemmeno. Ho capito però che a un certo punto la cosa veramente importante era che vivere per i libri, vivere per la musica, scrivere, era un modo di stare leggermente laterali rispetto alla vita. Avere a che fare con queste persone, trovarli un alloggio, risolvere infiniti problemi continuamente, spesso ricevendo ringraziamenti, a volte non ricevendo nulla, a volte addirittura inimicandosi delle persone. Ecco, questo mi ha messo in una situazione di trasformazione dell'anima, la dico in maniera un po' retorica, o di trasformazione dell'abito, dell'abito della vita, che mi ha portato molto più vicino alla vita e devo dirvi che per chi scrive, per chi fa il lavoro intellettuale, a volte essere lontani dalla vita può essere un po' un problema, è anche però una specie di difetto inevitabile. Soltanto stando un po' lontani riesci veramente a trovare le parole giuste, talvolta. Tuttavia stare troppo lontani può portare a sentire una specie di decelerazione del proprio battito vitale e a un certo punto ti rendi conto che non stai più vivendo, che non coincidi più con te stesso. Ora, nelle settimane che precedono il momento in cui vi sto parlando, ci sono stati tali e tante emergenze, sofferenze, a volte indicibili, a volte indecenti per quello che è successo. Bambini che guardano davanti al muro e non riescono ad alzare gli occhi dal proprio cagnolino che hanno salvato attraverso operazioni molto complicate. Donne che arrivano in una casa accoglienza e rubano il latte all'altra donna perché in qualche modo si sentono più intitolate alla sofferenza. Cose anche meravigliose che sono successe, tipo persone che hanno comprato degli appartamenti, potendolo fare per ospitare i profughi. Questo è successo a Torino. Ecco, tutto questo a un certo punto mi ha fatto sentire vivo come non ero mai stato prima e mi ha fatto capire che forse la vera opera, come diceva René Domal appunto, non è scritta, ma in qualche modo è uno spazio strano tra la vita e la scrittura. Questo stare in uno spazio strano tra la vita e la scrittura a un certo punto mi ha portato a fare una scelta molto importante che avverrà domani rispetto quando sto parlando in questo momento, ma per chi avrà visto questo video probabilmente sarà già successo, che è partire per l'Ucraina e organizzare il primo evento culturale con ospiti internazionali presenti fisicamente in Ucraina da quando è scoppiata la guerra. Questo credo che sia il modo più giusto per avvicinarsi a quel respiro di cui parlavo prima, il respiro di David Bowie giovane, il respiro di David Bowie vecchio, il respiro che ti porta a liberarti in vita e che porta il tuo cuore a bagnarsi veramente delle lacrime e delle persone che soffrono. Abbiamo capito che l'unico modo per fare cultura veramente, per coltivare un ideale, cultura, coltivazione e anche rituale, quindi per questo ufficiare il rituale della cultura in un luogo di sofferenza, mettere il proprio corpo laddove avviene la sofferenza, dove c'è anche un pericolo. Ecco, ho capito che non solo era la cosa giusta da fare, ma era l'unica cosa possibile da fare e allora abbiamo messo insieme un gruppo di appunto intellettuali, direttori di musei, architetti, musicisti internazionali di vari paesi e abbiamo organizzato questa cosa molto complessa da un punto di vista logistico, ma che alla vigilia della partenza e spero che questo sia confermato anche dopo, mi sembra l'unica cosa giusta che forse avrò fatto in tutta la mia vita, insieme a forse aver, diciamo, aiutato a dare alla luce i miei figli. Credo che essere lì, essere dove la sofferenza arriva, essere in qualche modo in questo atto di trasformazione che passa attraverso la cultura, ma passa anche attraverso il dare, la più alta forma di coincidere con se stessi che finora io abbia mai provato e penso che questo non abbia tanto a che fare col fatto che, col legame di sangue, penso che questo abbia a che fare col fatto di aiutare a coltivare un ideale, che è più alto ed è più importante e va al di là di se stessi. Avevo sempre vissuto fuori dalla storia e perfino fuori dalla vita. Prima di incontrare tutto questo dolore è a un certo punto fare una promessa a me stesso, non sarò mai più indifferente a questo dolore. Grazie.